Ubuntu, sempre meno open, tramite il suo store Snap, basato su tecnologie server proprietarie, si lancia anche con l'inganno alla conquista di tutte le distro Linux. Ecco i meccanismi di Snap, le differenze dai metodi tradizionali e come stanno davvero le cose. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Lo Snap Store, conosciuto anche come Ubuntu Store, è un centro software commerciale centralizzato gestito da Canonical. Simile al formato AppImage o a quello Flatpack, il formato Snap permette di installare programmi aggiornatissimi indipendentemente dalla distribuzione Linux. Snap sta arrivando i dibattiti accesi nella comunità Linux. Per un utente qualunque è solo un sistema per installare programmi recenti senza problemi di sicurezza e conflitti software. Talvolta questo utente si lamenta della lentezza nell'apertura dei programmi in questo formato e dello spazio su disco che richiedono. All'utente sensibile ai principi del software aperto e libero, Snap appare però come un pericoloso passo verso la chiusura ed il controllo centralizzato, tipico dei sistemi operativi commerciali come Windows, macOS o Android. Perché sebbene i software in formato Snap siano spesso open source, il meccanismo di gestione e distribuzione resta sotto il controllo esclusivo di Canonical. I più acconiti oppositori a questo meccanismo sono certamente Clement Lefebvre e la comunità degli utenti del sistema operativo Linux Mint, ma una significativa parte della comunità Linux si unisce alle critiche a Snap. Facciamo un passo indietro per chiarire anzitutto cosa sia Snap e in cosa si differenzi rispetto ai metodi tradizionali di gestione software in ambito Linux. Poi svegliamo l'inganno. In Linux il software è tradizionalmente distribuito tramite i cosiddetti pacchetti in formato compresso. Questi includono il programma, i binari eseguibili, file di configurazione e altre cosiddette dipendenze, cioè file che non fanno parte del programma ma sono indispensabili al suo funzionamento. I pacchetti sono distribuiti attraverso i repository della distribuzione Linux tramite appositi gestori di pacchetti. Differenti sistemi operativi Linux prevedono differenti formati e gestori di pacchetti. È un metodo assai efficiente ma presenta alcuni limiti. Il pacchetto richiede nel sistema la presenza delle cosiddette librerie dipendenti. Semplificando, le librerie sono raccolte di funzioni riutilizzabili in altri programmi. Lo sviluppatore di un programma X farà riferimento ad una precisa versione di queste librerie, contando sul fatto che nel sistema operativo siano incluse proprio quelle. Quando le librerie sono aggiornate da chi sviluppa il sistema operativo, se lo sviluppatore non lo aggiorna di conseguenza possono sorgere problemi di incompatibilità che talvolta impediscono al programma di funzionare o creano conflitti software di varia gravità. In tema con questo argomento segnalo il mio video Verificare e installare programmi in Linux. L'idea di base di Snap come per Flatpak e AppImage è che gli sviluppatori di software possono distribuire un programma tramite un solo pacchetto in grado di funzionare nella stragrande maggioranza dei sistemi operativi Linux. Perché in esso sono già incluse le librerie nelle versioni con cui il programma è testato e funziona certamente. Lo sviluppatore non è costretto a prevedere pacchetti nei formati specifici richiesti da distribuzioni di natura diversa e nemmeno a mantenere differenti versioni del programma persino per differenti versioni del medesimo sistema operativo e delle librerie che prevede. In teoria questo risparmia tempo e fatica agli sviluppatori e permette agli utenti di distribuzioni Linux anche di nicchia di installare qualunque programma nella versione più aggiornata. Anche la sicurezza riveste un ruolo importante perché le applicazioni Snap sono isolate dal resto del sistema e dalle altre applicazioni. Sia Snap che i formati concorrenti non richiedono privilegi amministrativi per l'esecuzione. Ciò impedisce che un programma possa modificare parti essenziali del sistema. Snap come Flatpak ha pure i suoi lati negativi. Siccome un programma in formato Snap incorpora tutte le dipendenze, i file sono fino a 10 volte più pesanti e creano ridondanze di dati. Richiedono cioè più banda e spazio su disco. Anche se molteplici pacchetti Snap usano le stesse versioni di librerie, queste sono comunque incluse in ogni pacchetto. Di per sé, con le velocità di connessione internet e la capienza degli harddischi attuali, questo non rappresenta un grande svantaggio. I programmi Snap sono in un formato compresso come una specie di file zip. L'apertura di uno di essi richiede l'estrazione del contenuto prima del montaggio nel file system e dell'esecuzione. Questo causa un ritardo nel primo avvio di ogni sessione desktop rispetto alle controparti DEB dei repository. Per impostazione predefinita, inoltre, Snap verifica la presenza di aggiornamenti 4 volte al giorno e li applica automaticamente quando disponibili. Quando però le risorse hardware come RAM e potenza di calcolo sono limitate, il sistema operativo potrà terminare altri processi critici per facilitare le operazioni di autoaggiornamento. Questa è una delle ragioni per cui utenti di Ubuntu sperimentano blocchi inspiegabili di programmi o dell'intero sistema. Da un punto di vista di impegno di risorse, quindi i formati indipendenti dalla distribuzione non sono ideali. D'altra parte, un utente potrebbe accettare il sovraccarico se questo permette di installare le ultime versioni dei programmi senza attendere che arrivino nei miei repository nativi della distribuzione. Fin qui tutto accettabile, forse. Ma arriviamo al lato peggiore di Snap, denunciato la prima volta da Clément Lefebvre, fondatore del progetto Linux Mint, nel post di giugno 2019 nel blog ufficiale. Quando Snap fu annunciato ci si aspettava che rappresentasse una soluzione e non un problema. Doveva rendere possibile eseguire programmi più recenti anche in presenza di librerie datate, consentendo agli sviluppatori software di terze parti di pubblicare i propri programmi in formato del tutto indipendente dal tipo di distribuzione, proprio come Flatpak e AppImage. Non volevamo certo che Canonical prendesse il controllo della distribuzione di software ponendosi tra le distribuzioni Linux e gli sviluppatori di terze parti, che impedisse la distribuzione diretta dei programmi da parte degli sviluppatori o che il suo store diventasse un requisito indispensabile per poter usare un certo programma. Nella documentazione ufficiale di Mint a proposito di Snap si legge Chiunque può creare repository APT e distribuire liberamente il proprio software. Grazie alla natura di APT, se un bug non viene risolto dai programmatori, può farlo Debian con una patch. Se non lo fa Debian, può farlo Ubuntu. Se non ci pensa Ubuntu, può farlo in Linux Mint. O infine l'utente. Flatpak non è altrettanto flessibile, ma chiunque può distribuire i propri Flatpak. Se Flatab decide di eliminare un programma, chiunque può creare un altro repository Flatpak, perché tale formato non dipende da Flatab. Anche se open source, Snap funziona solo con lo store di Ubuntu. Nessuno sa come creare uno Snap Store alternativo. Snap è progettato per funzionare con una sola fonte e con un protocollo non aperto. È uno store che non possiamo ispezionare, contiene software che nessuno può modificare e open source o no ha gli stessi limiti del software proprietario. Poi ancora. Quando Snap fu introdotto Canonical promise che non avrebbe mai rimpiazzato APT, questa promessa è stata infranta. Alcuni pacchetti APT nei repository Ubuntu non solo installano Snap tra le dipendenze, ma eseguono anche comandi Snap con autorità di root, senza che tu lo sappia o che tu autorizzi la connessione del tuo computer allo store proprietario di Canonical. Per documentare queste gravi accuse veniamo a quello che viene definito l'inganno, e che ancora oggi accade da Ubuntu 20.04 e successive, così come nelle distribuzioni sue derivate ufficiali legate a Canonical, e anche in quelle indipendenti, anche quando non integrano nativamente il formato Snap, o meglio, parte di esse. È proprio ciò che è accaduto di osservare in preparazione di Linux Mint 20. Verifica insieme a me cosa succede ad esempio quando cerchi di installare il browser open source Chromium dai repository Ubuntu gestiti con APT. Digitiamo nel terminale sudo apt install Chromium Browser e vediamo cosa succede. Pensi di installare Chromium dai repository Ubuntu, ma si installa lo Snap. Se non è chiaro, abbiamo chiesto di installare il pacchetto nativo dei repository con le modalità tipiche di Debian, ma il pacchetto è vuoto. Contiene solo comandi, con privilegi di amministratore, che ti collegano allo store di Ubuntu e installano Chromium in formato Snap. Non ti viene data scelta e nemmeno un avviso. Se non lo avessi fatto io, probabilmente nemmeno ti saresti accorto. In altre parole, usi un comando apt e viene installato un software che rimpiazza anche altri pacchetti dei repository apt con la controparte Snap. E lo Snap Store diventa requisito per poter usare il programma. Che brutta cosa! Leggo nella documentazione di Mint la definizione di Snap come backdoor, cioè un meccanismo invisibile che sfrutta apt per aggirare la sicurezza del sistema assicurandosi un accesso segreto e con privilegi tali da apportare modifiche al sistema senza permesso e senza avviso. Non so se la definizione sia condivisibile, ma non penso che questo comportamento possa essere giustificato con la semplicità per l'utente e il programmatore. Molti non sono interessati dai meccanismi di installazione del proprio software, ma moltissimi passano a Linux per sfuggire a certi meccanismi di controllo. Basterebbe che venissimo informati e questo video non esisterebbe. Faccio un esempio. Il client Spotify viene rilasciato per Linux solo in formato Snap o Deb, recuperabile dal PPA sul launchpad legato a Canonical. Non sono pubblicati codici sorgenti. Diciamo che sei utente di Fedora. Non puoi avere un pacchetto RPM né un flatpack e ti resta solo la scelta Snap. Quindi sottoponi il tuo sistema operativo Red Hat al controllo del suo maggiore concorrente Canonical. Paradossale, no? Questa è la ragione per cui nel titolo parlo di controllo globale di Linux. Ci sono persone che desiderano avere il controllo del proprio computer e spesso non gradiscono che decisioni tanto importanti vengano prese alle loro spalle, senza nemmeno un avviso. E mentre il controllo sistematico e l'ingerenza sulla privacy sono rischi, purtroppo, accettati da chi usa software non libero, mi pare gravissimo che ciò avvenga all'interno di sistemi operativi distribuiti come liberi e aperti. Linux Mint ha promesso anni fa che Snap non sarebbe stato installabile senza uno specifico ed attivo consenso. Ed è la ragione per cui, cercando di installare il browser open source Chromium in Linux Mint, con il medesimo comando apt, viene installato il pacchetto DEB dai repository ufficiali di Linux Mint, perché il team provvede a compilarlo dal codice sorgente per metterlo a disposizione dei propri utenti. Sono utente di Linux Mint e gli ho dedicati quasi interamente blog e canale YouTube di alternativa Linux. Ma non è solo la comunità di Linux Mint a condividere la visione di qualcosa di abnorme o ad intraprendere azioni per impedire l'inganno. Ad esempio, PopOS, di Istrogno Linux di System76 su base Ubuntu, si è mosse in questo senso. Dalla fine del 2021 ha iniziato a gestire in autonomia i suoi repository. Fino ad allora erano previsti come PPA di Ubuntu nei server Launchpad di Canonical. PopOS rimuove dalla sua base Ubuntu lo Snap Store, installabile solo su iniziativa dell'utente. Oltre al ricorso ad apt per l'installazione dai propri curati repository, PopOS infatti integra nativamente i Flatpak ed inserisce FlatHub tra le fonti software. Altro esempio. In vista del lancio della versione 6 del sistema operativo, David Hewitt del team ElementareOS, distribuzione GNU Linux su base Ubuntu, su Reddit scriveva Ci stiamo adoperando per evitare di preinstallare Snap ed anche il nostro App Center non supporterà tale formato che l'utente potrà installare solo con azioni specifiche. Non siamo particolarmente coinvolti dal sempre maggior affidamento di Ubuntu su Snap perché non usiamo molti pacchetti del genere che viene rimpiazzato dalle versioni Snap. Ereditiamo kernel, driver e librerie, ma la maggior parte delle applicazioni grafiche installate sono impacchettate dal team Elementari. C'è anche il team di Body Linux, altra distro leggera su base Ubuntu che ho recensito in sistemi operativi Linux leggeri e a 32 bit ad allinearsi. Nella documentazione ufficiale di Body Linux a proposito di Snap si legge Il supporto per Snap è disattivato per impostazione predefinita in Body Linux 6 e 7. Il sistema di pacchetti APT è stato configurato per impedire l'installazione del pacchetto SnapDi necessario per l'installazione di tutti i pacchetti Snap. Il team di Body ha ritenuto necessaria questa modifica a causa delle modalità con cui Ubuntu impacchetta certe applicazioni nei propri repository. La stessa pagina riporta che la medesima decisione è stata presa anche da Linux Mint e cita le dichiarazioni di Clement Lefebvre. Insomma, volevo fosse chiaro che lo scandalo non nasce da un capriccio o stratagemma di Linux Mint per scopi pubblicitari, ma un tema che sta coinvolgendo ampi settori della comunità Linux. Al di là dello scontento degli utenti Ubuntu che si lamentano solo delle scarse prestazioni dei programmi Snap o della loro talvolta scarsa integrazione con i temi desktop del sistema. Potresti quindi chiedermi cosa consiglio di fare se usi Ubuntu o se la tua distro adotta comunque nativamente Snap. Ma io non ho preparato questo video per dirti cosa fare ma per maggiore consapevolezza. E anzi per sapere nei commenti seria conoscenza di questi meccanismi se ti interessano o se pensi di fare qualcosa. Non devi necessariamente intraprendere azioni. La cosa più semplice da fare è nulla. Tanto la privacy è ormai un'utopia ed è più importante avere un ricco catalogo di programmi recenti installabili senza scocciature e conflitti. Non lo penso davvero. Ma se stai ancora leggendo può darsi che tu abbia davvero interesse a trovare correttivi a questa situazione. Prima vorrei comprendere se la tua distro integra Snap. Se usi Ubuntu o una delle sue derivate ufficiali in corso di supporto non ci sono dubbi in merito. Come infatti citato in Ubuntu Cinnamon vs Linux Mint, già da tempo Ubuntu preinstalla anche il browser Firefox in questo formato a firma canonical. Ma spesso altre derivate non ufficiali di Ubuntu si adeguano. Digita in una finestra di terminale il comando snap-version in caso di dubbi. Se il comando è riconosciuto e restituisce informazioni, stesso discorso. Fare a meno di snap è possibile. Forse hai già imparato a fare a meno di Windows. Se rimuovi snap, il modo migliore per integrare nuovi software ai programmi presenti nei repository è quello di passare alle versioni flatpack. I flatpack hanno tutte le medesime caratteristiche degli snap. integrano le dipendenze, sono eseguite in un contenitore e consentono di ricevere rapidamente gli aggiornamenti al programma. Anche i lati negativi, legati al peso del file, alle ridondanze, eccetera. Salvo per un dettaglio. Il meccanismo sviluppato da una comunità di utenti è open source, non è centralizzato sotto il controllo di un'unica entità. Chiunque può creare un archivio repository per flatpack, non è necessario collegarti a quello più noto e forse ricco di programmi flathub. Le differenze sono sottili sia in termini di prestazioni che di sicurezza. Io, però, in linea generale, l'ho già detto in altre occasioni, preferisco quasi sempre il formato AppImage per programmi in versioni più recenti, in alternativa ai programmi dei repository. AppImage è un formato nato oltre dieci anni prima di flatpack e snap da un'iniziativa individuale attorno a cui si è sviluppata poi una ricca comunità. I file si scaricano da appimageapp.com o li trovi nei siti ufficiali dei software che lo prevedono. Anche se integrano tutte le librerie dipendenti, i file sono molto leggeri. L'editor video KDNLive 2308.1 richiede lo scaricamento di 1,4 Gb di dati e 3,5 Gb di spazio su disco in flatpack. Ma il file AppImage pesa 187 MB. I programmi AppImage non prevedono installazione. Scaricata un'AppImage, gli assegni per mezzi di esecuzione lo avvii, anche senza terminale. AppImage non richiede privilegi di root per l'esecuzione e ciò già limita una serie di problemi. Tramite il programma FireJail, se non S-Linux o AppArmor, puoi anche isolare completamente un'AppImage dal resto del sistema durante l'esecuzione. I livelli di sicurezza post-installazione diventano assimilabili a quelli di snap e flatpack. I quali però richiedono privilegi di root per installarsi e non puoi installarli solo per te, ma diventano disponibili anche per tutti gli altri utenti del medesimo computer. AppImage ti consente anche di usare differenti versioni del medesimo programma. Ma visto che non si installa, non lo troverai nel menu tra gli programmi. E visto che non c'è un repository, normalmente non riceverai aggiornamenti. Ma nelle distro che lo consentono, anche senza terminale, puoi creare un cosiddetto lanciatore desktop, assegnargli un'icona e il programma AppImage si integrerà tra le altre app nel menu. Il programma AppImage Launcher semplifica le operazioni di gestione, permette di saltare il passaggio dell'assegnazione dei permessi di esecuzione e integra la possibilità di ricevere aggiornamenti quando lo sviluppatore rilasci una nuova AppImage per il programma. Al di là delle alternative a snap, per liberartene senza complicazioni, puoi abbandonare la tua distro per una senza base Ubuntu o a favore di PopOS, Linux Mint, Elementary OS o Body Linux. Come detto in precedenza, queste distro su base Ubuntu non integrano il supporto snap ed impediscono lo sfruttamento di APT per l'installazione a tua insaputa. Restano talvolta preferibili ad una Debian pura per le aggiunte in termini di semplicità che il meccanismo di installazione e di gestione di driver e codec di Ubuntu apportano a Debian. A partire dalla nuova versione del centro software di Ubuntu 23.10, quando installi un programma, se questo è disponibile sia nei repository APT che in formato snap, avrai automaticamente quest'ultimo. Flatpak non è più integrato per spingere gli utenti verso snap. Dalla versione 24.04, attesa l'anno prossimo, Ubuntu potrebbe prevedere una versione solo snap per installare programmi. Ma questo è un altro discorso e ha le sue motivazioni. Rimuovere del tutto snap dalla propria distro richiede diversi passaggi e verifiche, anche se c'è una scorciatoia praticabile. Ma non sono sicuro che alla lunga sradicarlo da Ubuntu non crei problemi. Non basta rimuovere Firefox e ogni altro software snap che ha installato. Il sistema mantiene componente di snap ed il processo snapd resta in esecuzione, cercando aggiornamenti più volte al giorno. Si deve disattivare e disinstallare lo store Ubuntu e applicare la stessa strategia usata da Mint per impedire che si installi poi a tua insaputa attraverso APT. Spiegherò come rimuovere e bloccare l'installazione fraudolenta di snap nel prossimo video. Insomma, sono tempi duri per il software libero, per la trasparenza e la libertà di scelta del software intorno a cui Linux e l'open source erano stati fondati. Red Hat ha cominciato a proteggere i propri codici sorgenti, che rendono ardua la compatibilità delle proprie soluzioni con distribuzioni derivate come Alma Linux e Rocky Linux. Molti utenti ritengono tradisca così lo spirito open source originale di Linux. Oltre dieci anni fa si scoprì che Ubuntu condivideva con Amazon i dati delle ricerche degli utenti nel menu principale che restituiva prodotti del catalogo tra i risultati. Il fondatore della Fondazione per il Software Libero e del progetto GNU, Richard Stallman, non esitò a definire Ubuntu uno spyware. Adesso Canonical con Snap si lancia alla conquista di tutte le distro, anche di natura completamente diversa da Debian, con le sue tecnologie server proprietarie su cui l'utente non ha alcun controllo, cercando di sbaragliare la concorrenza di Flatpak e rimpiazzando progressivamente APT. Microsoft dal 2016 è membro Platinum della Fondazione Linux e gli versa mezzo milione di dollari all'anno. Ha comprato l'open source, nel senso che ha comprato GitHub, archivio che ospita oltre 50 milioni di progetti software open source per 7 miliardi e mezzo di dollari, e ha introdotto il supporto per programmi Linux con il sottosistema Windows per Linux. Quanto amore. Tu cosa ne pensi di Ubuntu, di Snap e più in generale del futuro di Linux? Fammelo sapere nei commenti, ma ti prego di mantenere un tono civile e non aggressivo nei confronti di chi non la pensa come te. Nella pagina blog, di cui trovi il link nella descrizione del video, trovi una tabella comparativa delle differenze tra i formati software citati e tutti i link alle fonti che sono la base del contenuto di questo video. Grazie ancora per il tuo tempo e se vuoi ci vediamo presto. Ciao!